ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video allora un piccolo disclaimer purtroppo mi trovo in italia e dal momento che non ho la possibilità per via nella mia connessione di caricare video dove mi si vede in faccia purtroppo devo adeguarmi e fare questi video dove si sentirà solo la mia voce mi scuso con tutti voi ma spero che questi video potranno piacervi comunque sono un po indietro con i video perché di solito ne ho sempre un po in stock ma questo mese tra il fatto che sono tornato in italia e pensavo di poter girare i video purtroppo posso girarli ma poi per via della connessione non posso caricarne quindi io sto in realtà continuando a fare video dove mi si vede che registro in italia ma molto probabilmente sarò in grado di mandarlo al mio editor poi quando tornerò in giappone quindi i nuovi video che farò qui ne farò in parte registrandoli dove mi si vede e altri in questa versione allora il video di oggi parleremo di il killer di osaka e quale kamata yatsutoshi e questo video lo ha trattato anche claudia di rom tokyo one way quindi se volete vedere il video ascoltato da lei visto che le informazioni sono le stesse potete andare sul suo canale mentre se preferite ascoltarlo con me possiamo parlarne insieme qui e vi ricordo che con claudia a breve inizieremo a realizzare delle live e presumo che inizieremo già ad aprile e quindi ci stiamo un po mettendo d'accordo perché il problema è che se la connessione non mi permette di fare delle live magari faremo delle discussioni in cui parleremo di un caso e poi le caricheremo perché penso che fino al mio rientro in giappone sarà un po difficile fare delle live ma non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo subito a parlare del caso di oggi il caso di oggi appunto quello che vede come protagonista kamata yatsutoshi non ha avuto una particolare risonanza in giappone i casi sono avvenuti tra il 1985 e il 1994 e in questo periodo storico ci sono veramente stati una serie di casi che hanno avuto molto più risonanza in giappone e questo caso è stato in parte oscurato da questi altri casi di cronaca nera mentre questo caso non ha avuto la stessa copertura mediatica inoltre c'è da dire che la polizia ha visto una serie di crimini ma non si è subito accorta che si trattava dell'opera della medesima persona appunto di questo serial killer di osaka tale kamata yatsutoshi kamata yatsutoshi nasce nel 1940 nella prefettura di heime e la sua famiglia distribuiva come lavoro delle bacchette usaigetta per i vari ryokan che sono gli hotel giapponesi tuttavia kamata si vantava di essere l'erede di un famoso ryokan era un ragazzo dal carattere molto irrascibile frequenterà le superiori ma durante questo periodo e perderà il padre e a seguito della perdita appunto di questo suo genitore lui sceglierà di smettere di frequentare le scuole e sceglierà di trasferirsi a osaka per diventare cuoco non riuscendo però nella sua impresa di diventare chef sceglierà di tornare a casa e successivamente si sposerà avrà un bambino ed una bambina assieme alla moglie aveva una vita piuttosto normale e aiutava la madre appunto nella sua attività lavorativa tuttavia alcuni anni dopo questo loro matrimonio la moglie verrà a mancare kamata prenderà quindi i due bambini e sceglierà di trasferirsi a nara dove inizierà a lavorare in una fabbrica di scarpe tuttavia questo suo lavoro non durerà molto a lungo anzi continuerà a cambiare una serie di lavori finché poi in seguito sceglierà di trasferirsi nuovamente a osaka nel quartiere di nishinari che non so se sapete molto osaka però nishinari non è proprio un bel quartiere dove stare so che ci sono tantissimi hotel veramente a basso costo ma io vi consiglio di starci lontani kamata durante la sua nuova permanenza a osaka uscirà spesso a bere e in una di queste uscite incontrerà anche una donna con la quale si sposerà nel giro di pochissimo i bambini accoglieranno a braccia aperte questa donna tuttavia la relazione tra kamata e questa nuova moglie non durerà molto a lungo infatti questo kamata inizierà ad essere molto inrascibile inizierà anche a picchiare questa sua moglie prendendola addirittura per il collo per volerla come strozzare molto spesso saranno proprio i figli di questo kamata a venire in soccorso di questa povera donna come potete immaginare dal momento che i rapporti non erano buoni i due finiranno per divorziare e sarà quindi la moglie che si prenderà cura di questi due bambini che non erano nemmeno i suoi figli biologici e con i quali aveva anche in realtà passato ben poco tempo assieme kamata a questo punto dopo soli pochi mesi dal loro divorzio si era già trovato un amante e in questo periodo inizierà a rubare a vivere praticamente di furti rubava qualsiasi cosa tra cui vestiario accessori che poi rivendeva poco alle prostitute verrà anche arrestato più volte dalla polizia nel 1985 verso la fine di maggio una volta uscito di prigione andrà a bere e sarà proprio lì che incontrerà una donna che denomineremo a tutte le vittime di kamata verranno indicate dai media giapponesi con una lettera alfabetica in ordine cronologico i veri nomi purtroppo sulle varie fonti che io e claudia abbiamo cercato soprattutto claudia purtroppo non sono stati disponibili questa donna era sposata aveva tre figli e per qualche motivo quella sera aveva scelto di uscire da sola kamata la inviterà a cena e poi chiederà alla donna se volesse andare nel suo appartamento imprudente la donna lo segue e giunta al suo appartamento continuerà a bere benché fosse ubriaca sembra che questa donna continuasse a bere veramente tanto kamata sembra che l'avesse invitata più volte a smettere di bere ma sembra che questa donna gli avesse risposto ma fatti gli affari tuoi tuttavia come vi avevo detto kamata era una persona estremamente irrascibile senza contare che era anche irritato dall'atteggiamento di questa donna e per questo motivo sceglierà di metterle le mani sul collo una volta che le ha messo la mano sul collo inizierà a stringere tuttavia forse anche per via dell'alcol che aveva nel suo corpo invece di stringere come aveva fatto con la moglie soltanto per provocarle del dolore probabilmente stringe con tutta la forza che aveva nei polsi e nel momento in cui la lascerà si renderà conto di averla fatta fuori a quel punto kamata si renderà conto che la situazione era grave e molto grave la sua soluzione era quella di far sparire il corpo se non ci fosse più stato un corpo probabilmente sarebbe stato molto più difficile identificare lui come l'assassino tuttavia per portare fuori dall'appartamento questa donna senza vita non era molto facile farlo come potrete immaginare senza essere visti e per questo motivo ha pensato di farla a pezzi per rendere così il trasporto più facile una volta fatta a pezzi inizierà a metterla all'interno di una scatola di cartone e la porterà in un boschetto in un quartiere a Kobe questa sarà la prima vittima di kamata a seguito di nemmeno un mese il 16 giugno mentre era tornato alla sua vita solita come se nulla fosse successo incontrerà una ragazza di appena 19 anni che chiameremo B i due dopo essere stati a mangiare del sushi verso le 14 si dirigono a casa appunto di kamata una volta arrivati consumeranno un rapporto e in seguito la ragazza chiederà all'uomo dei soldi kamata a quel punto le darà 10 mila yen una cosa come 70 80 euro la ragazza riprende tuttavia gli dirà ehi guarda che sono pochi a queste parole kamata si irrita le si getta sulla schiena e le mette le mani al collo e stringe anche qui non allenterà la presa per diversi minuti finché purtroppo anche questa ragazza passerà a miglior vita ancora una volta kamata prenderà una scatola di cartone e farà pezzi il corpo di questa 19enne abbandonerà questo corpo nei pressi di una strada rurale e nelle vicinanze di nara tuttavia a differenza dell'omicidio precedente questa volta il corpo della vittima è stato rinvenuto già la sera successiva dal momento che era in un punto facilmente visibile tuttavia dal momento che la prima vittima ancora non era stata scoperta la polizia quando inizia le indagini non si renderà conto che questa morte poteva essere in qualche modo legata a quella della morte di a e dal momento che in quel periodo la polizia era come vi dicevo a inizio video molto occupata con un caso mediatico di ben alta portata kamata cosa sceglie di fare sceglierà di mandare una lettera anonima alla polizia dove scrive prendetemi se ci riuscite e dove da indicazioni specifiche sia su come è stata smembrata questa ragazza sia sul posto dove avevano mangiato del sushi a questo punto la polizia essendo questo un pattern che già aveva visto con l'altro caso si è trovata un po spiazzata e la polizia ha pensato quindi che questo omicidio fosse in qualche modo correlato a quell'altro caso su cui la polizia già stava lavorando e aveva mobilitato molti uomini quindi questo kamata ha cercato in qualche modo di depistarli fornendo delle informazioni per portarlo diciamo sulla via sbagliata in qualche modo c'è anche inizialmente riuscito tuttavia vi erano una serie di testimonianze che avevano visto questa giovane mangiare del sushi in quel ristorante assieme ad un uomo di mezza età kamata continuerà con la sua vita tuttavia il 27 gennaio del 1987 verso le 17 e 30 vede una bambina di 9 anni che chiameremo chi camminare nei pressi di una strada e purtroppo ha scelto di caricarla in macchina perché aveva deciso di farle violenza una volta condotta a casa questa bambina come potete immaginare non la smetteva di piangere e per questo motivo kamata per paura di venire scoperto anche qui ha scelto di strangurarla in questo caso kamata non farà il corpo a pezzi dal momento che si trattava di una bambina piccola e quindi è riuscito a metterla all'interno di una scatola senza doverla segare questa scatola di cartone contenente il cadavere di questa bambina sarà poi abbandonato tra le montagne kamata andrà a contattare sia la scuola che i genitori della bambina dicendo di averla rapita e di volere un riscatto di 30 milioni di yen anche questo dettaglio diciamo e questo modo di agire si ricollega molto a quello dell'altro caso i genitori speravano che la bambina fosse ancora viva tuttavia passati tre mesi da questo presunto rapimento sarà rinvenuto il cadavere della loro bambina esattamente il 3 maggio dello stesso anno ancora una volta la polizia non è stata in grado di trovare un collegamento tra questa ragazza c e le altre due vittime rispettivamente ragazza a e ragazza b ancora una volta kamata non verrà indagato successivamente nell'ottobre del 1989 kamata andrà in galera per furto successivamente sarà rilasciato e poi nell'agosto del 91 sarà ancora una volta dietro le sbarre e uscirà poi in seguito nel marzo del 1993 in quel periodo come potrete immaginare la polizia stava cercando un assassino che era già in carcere pensate con l'accusa di furto quindi come potete immaginare era veramente difficile portare avanti queste indagini e arrivare a una soluzione kamata tuttavia una volta tornato in libertà ricomincerà ad uccidere ed esattamente il 24 luglio del 1993 troverà una nuova vittima una hostess ovvero una specie di escort che chiameremo ragazza di ancora una volta la porterà nel suo appartamento questa donna aveva 45 anni e prima di iniziare la sua chiamiamola prestazione chiede all'uomo di essere pagata in anticipo kamata senza esitazione sceglierà quindi di strangolarla a questo punto non possiamo capire se avesse invitato questa donna appunto per avere una prestazione da lei o se l'avesse invitata nella sua casa proprio per farla fuori come se fosse diventato un vero e proprio bisogno per questo kamata questa donna di verrà anch'essa tagliata a pezzi messa in una scatola di cartone e abbandonata tra le montagne verso la fine di maggio del 1994 questo uomo colpirà ancora questa volta la vittima sarà una 38enne che chiameremo donna e questa donna lavorava in un ristorante il corpo a pezzi sarà poi rinvenuto nei boschi il 3 aprile e quindi dopo solo i pochi giorni dall'uccisione la polizia che ovviamente è andata a fare i prelievi dove è stata trovata mentre appunto cercava nella zona del ritrovamento senza volere è praticamente incappata nel corpo della donna di quindi della hostess di è stata riconosciuta grazie a dei segni dati da alcune procedure mediche a cui questa donna è andata incontro alcune fonti dicono dai denti grazie agli sforzi della polizia sette mesi più tardi riusciranno ad identificare anche e appunto quella ragazza che lavorava in un ristorante nell'ottobre nel 1984 tuttavia le prove di una conoscenza di un rapporto tra di e camata era talmente lieve per entrambe che per un motivo per l'altro il nome di camata non veniva assolutamente fuori e nel mentre camata continuava a rubare e nell'aprile del 1995 è stato nuovamente arrestato come sospetto di un furto in un magazzino di una ditta e durante l'interrogatorio è venuto fuori che questo camata conosceva molto bene la zona attorno al ristorante di sushi dove la seconda vittima b aveva mangiato proprio prima di sparire inoltre hanno visto che quella macchina che camata aveva nolleggiato nella quale aveva portato la 19enne b fino al posto dove è stato ritrovato il corpo il chilometraggio era esattamente quello appunto di questa distanza che c'era appunto tra questi due posti inoltre la maniera in cui b d e e erano state fatte a pezzi erano estremamente similari inoltre le impronte digitali che erano state rinvenute su quella lettera che camata aveva inizialmente inviato alla polizia corrispondevano proprio alle impronte digitali di camata la polizia ha iniziato ad avere un po in idea di quello che stava succedendo e ovviamente capisce che c'è un vero e proprio filo conduttore e per questo motivo la polizia di osaka assieme alla polizia di nara formano una plus force congiunta ed intensificano le indagini camata dichiara di essere il responsabile solo per aver disposto la scatola contenente la bambina dopodiché anche deposto l'esistenza di fatti non ancora scoperti quindi dopo essere stato imputato il tribunale di osaka inizia il processo dove lui dirà di essere innocente dichiarerà che la polizia gli ha estorto le confessioni che lui ha solamente partecipato alla disposizione del corpo della bambina ma che non l'ha fatta fuori lui ha detto di non essere stato lui ad aver telefonato alla scuola e ai genitori della bambina malgrado ci siano dei nastri dove la difesa dice che la voce non corrisponde mentre i periti dell'accusa sostengono che sia un vero e proprio match benché quindi camata continuasse a dichiararsi innocente le prove dicevano il contrario la sentenza è stata emessa il 24 marzo del 1999 lo dichiarerà colpevole di tutti e cinque questi omicidi e camata sarà condannato alla pena di morte camata ha cercato di fare moltissimi appelli fino ad arrivare all'alta corte suprema che l'otto luglio del 2005 confermerà la pena capitale la pena di morte di camata yatsutoshi è stata eseguita il 25 marzo del 2016 camata aveva 75 anni ed era una delle persone più anziane che è stata condannata a morte con la pena che poi è stata eseguita almeno in giappone ragazzi questo era il caso di oggi io spero che questo caso vi sia piaciuto ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e vi ringrazio davvero moltissimo per aver scelto di essere qui con me a vedervi questo video un saluto da sema iscriviti al canale